L'ho schiacciato un attimo 0 1 2 Ci siamo ragazzi siamo in onda Siamo in onda Salutiamo tutti la webcam Io mi sono già fatto abbastanza foto E a me chi cazzo mi riprende Faccio vedere l'uccello va bene Mi si riconosce Perché dobbiamo bippare già il video Ma non ho capito Ma tanto non registra Non fa neanche cosa Oh basta che non fai La foto a te Senti Ah l'ho vista l'intervista Come perdere clienti Dai un messaggio alla nazione Quale delle tante nel mondo L'Italia per forza No ma apposta facevo io L'Italia ovviamente Vado 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 Ci siamo Pierlola vado davanti Pierlola Faccia da apri pista Apri pista che noi non sappiamo dove dirige Sì Poi Sì Poi Sì 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 Grazie a tutti. Dov'è Matte? E' quello impegnato. Quello che sta finita di sciare. Cioè andiamo di là allora, no? Di là andiamo allora? Di là che poi si è spostato dall'altra parte. Perché se no dobbiamo riscendere giù. No, infatti. Fatti, dai. Yes, vai! Che figavo! C'ho uno scarpone molle, percadigl. C'ho uno scarpone mo... Puttana che lastra! Occhio qua! Ale! Occhio qua, eh! Ci sono... Vedi quei pezzi lì? Sono lastre scoperte. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. C'è anche... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, se no mi si appaggia la mascherina e non c'è il mio uomo. Io ho già fatto il video e già nel video è già caduto. Sì, ma hai visto? Ero lì così tranquillo, ho preso la lastra e è partito di colpo lo sci. Andiamo. Dove? Vai Ale, ti seguo. Ti seguo. E' arrivato lì. E cazzo ne so. E' arrivato lì. Allora, non so non capirla che racconto. No. Ok. No, non mi sento. Hai perso una racchetta? Qua è sempre facile arrivare qui giù. Mi sembra che tu c'è se fai... Il recupero della racchetta live. Che figao ragazzi. Vai ragazzi. Puttana. Ado Buona Sì 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 Sì